Fenice è così, perdiamo 4-3 contro il Bayern Monaco, ho veramente tantissime cose da dire però prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella ma soprattutto lasciate l'acca a questo video per supportare il canale se volete vi potete abbonare per ricevere dei vantaggi esclusivi ora che ho detto tutto quello che dovevo dire possiamo finalmente iniziare partiamo dall'errore di Onana, partiamo dall'errore di Onana perché è quello che cambia la partita l'errore di Onana cambia completamente il match perché prima dell'errore per me ce la stavamo giocando alla pari ed era veramente qualcosa di surreale per me perché io pensavo di subire subito una rete a inizio partita proprio allo scoccare del quindicesimo secondo e invece no, lo United ha giocato poi quell'errore ha cambiato totalmente la partita perché il Bayern ha preso coraggio ha iniziato a giocare, ha iniziato a schiacciarci dentro la nostra area di rigore e lì abbiamo iniziato a subire una valangata dei tiri, una valangata dei triangolazioni, dei costruzioni che ci hanno fatto veramente male arriva il 2-0 e non so come sia stato possibile nel 2-0, quando subiamo il 2-0 qualcosa cambia reagiamo, reagiamo al gol che abbiamo preso e troviamo subito il gol con Rasmus Oilund una bella azione che poi si riesce a concludere perché Oilund ci crede poi qui ho iniziato a sclerà cioè in quel momento lì appena ha segnato Oilund io ho iniziato a sclerà perché da lì il centrocampo ha iniziato a scricchiolare in maniera veramente imbarazzante imbarazzante perché questa sera è facile dare la colpa ad Onana perché uno dice cacchio ha fatto l'errore sul primo gol, è finita 4-3 quindi la colpa è ad Onana se lo United ha perso e no, e no perché nel secondo tempo Onana fa 2-3 miracoli che quei miracoli lì ci hanno permesso di rimanere in partita perché se Onana non parava determinati tiri soprattutto quello del Chupo Motting che non era facile, la partita era finita era finita quindi Onana sì ha le sue colpe come ho detto all'inizio ma la colpa più grande va data al centrocampo perché sì Casemiro ha fatto due gol ma Eriksen e Casemiro sono stati imbarazzanti imbarazzanti io non mi posso vedere il Bayern Monaco che passa la palla a Enriquein Enriquein è completamente libero oggi Musial, Assani hanno fatto tutto quello che volevano e io ero partito al presupposto che non era facile fermare determinati giocatori ma quando vedo Reguillon che mi fa una partita astronomica sia nel lato offensivo che difensivo non posso poi vedere Eriksen che mi perde più di un pallone in fase di gestione e che dà la possibilità con quei palloni persi dà la possibilità al Bayern Monaco di creare azioni pericolose quanti palloni hanno perso Eriksen e Casemiro in fase di gestione soprattutto Eriksen Eriksen è stato veramente qualcosa di imbarazzante imbarazzante perché tu questa partita la sei andata a perdere proprio per questo perché i centrocampisti non difendono e non attaccano cioè nel 3-1 quando noi stavamo perdendo cioè quello che avete visto cioè il Bayern Monaco che fraseggiava 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 lo United era tutto arroccato dietro sembrava fosse tutto arroccato dietro non è perché Tenag voleva mantenere quel risultato lì semplicemente non ti puoi spingere in avanti perché nel momento in cui cerchi di andare in pressione e quindi cerchi di recuperare il pallone quindi vai con i centrocampisti e con gli esterni ad aggredire i centrali che succede? che il Bayern ha dei singoli uno tra tutti i team che riesce a gestire la pressione come Davis esce e lì sei finito lì sei finito perché parte il contropiede e non li prendi più perché oggi tutti i contropiedi tutti i contropiedi del Bayern Monaco sono stati letali non c'è nessuno che riesce a centrocampo a fermare le ripartenze Casemiro che si è fatto fregare due volte da Ciupo Motting Casemiro che mi prende non si sa quanto di stipendio stasera nell'uno contro uno è stato imbarazzante questa partita noi l'abbiamo persa soprattutto per i centrocampisti soprattutto per quei due perché a me non me ne frega niente se poi Casemiro fa due gol non me ne frega niente perché due gol sono arrivati anche perché la difesa del Bayern Monaco come vi ho detto nel pre-match perché io le partite le guardo prima di analizzarle il Bayern Monaco ha gravi problemi difensivi gravi problemi difensivi e tu oggi sei riuscito a sfruttarli al meglio ma non puoi continuare a giocare così non puoi Eriksen va messo in panchina in questo momento Casemiro in questo momento non puoi metterlo in panchina perché non hai il sostituto ma rientro di Ambrabat quello deve finire in panchina perché non ti dà ragazzi il calcio è uno sport veramente complicato ma c'è una cosa c'è una regola nel calcio che è fondamentale il centrocampo è la cosa più importante perché lega la difesa e l'attacco se il centrocampo è disunito è lento è macchinoso tu non difendi bene e non attacchi bene o il lund è stasera o il lund è stasera io io credo che le persone che hanno commentato e criticato sto ragazzo o hanno criticato addirittura il prezzo che lo United ha sborsato per portarselo a casa oggi devono stare in silenzio perché letteralmente Erasmus stasera da solo da solo perché Rashford è veramente improponibile anche oggi da solo è riuscito praticamente a dar fastidio a cercare di recuperare più palloni e cercate di pressare l'avversario dopo sì Rashford quando si accende la lampadina ti fa la giocata e poi ti fa il passaggio giusto per il gol ma quando gli si accende la lampadina perché mai mai chiede a Rashford 90 minuti di continuità ma che siete matti ma che siete matti ma sì facciamoci il facundo e teniamo in campo Rashford che era improponibile altre scelte spagliate a livello dei cambi di Tenaghi non ho capito che ha aspettato a mettere Hannibal non lo so Scott è veramente anche lui raga improponibile un giocatore lento macchinoso brutto da vedere non si può non si può andare avanti con sto centrocampo non si può non ti dà intensità io fossi un tifoso del Bayern Monaco stasera mi strapperei i capelli perché stasera il Bayern Monaco ha mostrato dei difetti veramente da squadra piccola perché riuscire a prendere tre gol da questo Manchester United è grave è grave ragazzi a un certo momento il Bayern Monaco ha messo dentro Coman Chupo Moting Müller Tell poi non mi ricordo chi ha messo dentro lo United è entrato Scott ha dovuto giocare trequartista da trequartista è entrato Carnaccio e stavo messo fuori posizione Rashford è uscito Oliund è entrato Martial l'unico cambio del ruolo è fatto bene cioè le condizioni fisiche le condizioni proprio a livello De Rose e lo United erano pessime ma io non mi vedete incazzato perché più che incazzato sono deluso perché dici cacchio 4 a 3 potevi provare a non prendere quel gol del merda quel gol che ha fatto il 4 a 2 quello dei Tell perché quello te lo potevi evitare te lo potevi evitare perché se rimanevi concentrato tu sta partita la pareciavi perché Bayern Monaco a livello difensivo fa ridere Kimmich e Goretzka hanno gli stessi problemi De Eriksen e Casimino la grande differenza è che Kimmich un po' te ricopre tutto il campo ma il Bayern ha dei problemi e io vi ripeto avevo delle aspettative veramente negative vede una squadra che sul 4 a 2 ha provato ha cercato e in un modo in un altro perché il gol di Casimino non mi ricordo se era il secondo il secondo il gol di Casimino il secondo arriva da una mentalità perché si è voti tutto a Casimino ma Casimino c'è una cosa che è differente dagli altri differente a Scott e da Eriksen la mentalità Casimino non si arrende mai quel gol arriva dalla prepotenza dalla cattiveria perché tu quella partita se ci avevi centrocampisti se tu stasera ci avevi Mount in campo che ti dava intensità che andava a pressa Guretzka che andava a pressa Kimmich e noi stavamo parlando di un'altra partita perché questo Bayern Monaco è tutt'altro che invincibile è tutt'altro che invincibile ve l'ho detto anche nel pre nel pre partita cioè nel pre partita ho detto ragazzi mettiamoci le mani nei capelli perché sono troppo forti però è elencato dei difetti che oggi lo United ha cercato di colpire ha cercato di far male alla difesa che è strutturata male si muove male però poi se tu non hai le pedine non ci puoi fare nulla perché se tu oggi scendevi in campo con Mount e come sostituto Eriksen era un'altra storia però è ovvio che alcuni di voi diranno è con i sec con i ma non si può di niente e infatti è vero è mo' perso che devo fa' cioè non si può di niente io ragazzi non posso essere deluso da una squadra che c'è 9 giocatori infortunati 8-9 giocatori infortunati sei andato in Germania a giocare contro il Bayern Monaco e alla fine il risultato ti dice che tu te la sei giocata fino alla fine perché sei stato vivo fino alla fine poi non hai giocato il calcio migliore il calcio divertente però ci sei stato fino alla fine e non sei mai morto con 8 giocatori infortunati c'ho veramente poco da dire ma questa squadra non può andare avanti così non può andare avanti così devono rientrare deve rientrare deve rientrare Mbrabat deve rientrare Mount deve rientrare Mason Mount deve rientrare quel ragazzo perché già le persone lo stanno giudicando per tre partite ma voi non vi rendete conto di quanto può aiutare Mason Mount allo United quanto può aumentare l'intensità e la densità in mezzo al campo io veramente so deluso anche oggi perché potevi potevi pareggiarla perché hai preso dei gol stupidi raga cioè parliamo un attimo del rigore cioè parliamo un attimo del rigore quella è la sintesi della partita di Eriksen un giocatore completamente fuori dalla partita cioè tu vai a saltare col braccio che va su completamente assente oggi tu oggi l'hai persa dammo la colpa a Onana perché i media sono fatti così perché i media prendono l'immagine e etichettano Onana come il peggiore quando Onana poi nel secondo tempo le parate l'ha fatta ti ha mantenuto in partita ha commesso l'errore ma ti ha mantenuto in partita ha commesso un errore Eriksen ha commesso dal primo fino all'ultimo minuto fino a che non uscito ha sempre commesso errori si è mangiato un gol davanti la porta nei primi minuti della partita Casemiro lo correggi per i due gol no perché il centrocampista il ruolo del centrocampista non è quello di segnare o perlomeno nel ruolo di Casemiro non è solo quello di segnare ma è quello di difende io non mi posso vedere Casemiro che va scivola cioè viene messo a sedere dal ciuppo motting Casemiro poi di Bruno non c'è niente da dire quel cristiano corre a destra a sinistra a un certo momento non ci capisce più niente e fa pallettoni inizia a sbagliare tutto ma anche oggi Bruno l'assiste e te l'ha messo dentro io veramente per lo più è il risultato ragazzi è il risultato perché questi questi 4 a 3 tu lo potevi fa se tu cessavi con la destra è quel quarto gol che a me mi fa girare i coglioni perché il quarto gol tu te lo potevi evitare te lo potevi evitare ma anche stasera Lindelof ha fatto dei danni che stasera veramente se salva Dalot se salva Reguillon se salva Eilund se salva Facundo che a parer mio ha fatto la sua partita gli altri e tutti da rimandare da bocciare da rivedere la prestazione da rivedersi la partita però veramente 4 a 3 io non me lo aspettavo sinceramente non mi aspettavo sta reazione la squadra diciamoci chiaramente c'è a livello mentale c'è perché se tu non ci stai mentalmente tu tre gol al Bayern non li fai perché il Bayern quando te picchia te picchia l'abbiamo visto contro il Barcellona l'abbiamo visto l'anno scorso contro l'Inter l'abbiamo visto l'anno scorso contro il Barcellona l'abbiamo visto sempre il Barcellona quando tu gli hai le possibilità di menate te picchia non è che te lascia lì noi siamo stati sempre in partita giocando male ma siamo stati sempre in partita e siamo riusciti a corciare le distanze problema che mancano le persone mancano i giocatori adesso se può dare mille colpi a Tenag perché la terza partita consecutiva che perde se può fare mille analisi se può dire quello che volete ma quando quel cristiano si cira sulla panchina questo è un discorso che c'è fammo 20 volte e poi dopo sotto nei commenti me ne vengo persone e gli arno tu difendi Tenag ma non è che difendo Tenag ma Tenag la partita l'ha anche preparata ma se poi nel secondo tempo tu hai bisogno intensità e densità e mezzo al campo te ciri c'hai Scott c'hai Hannibal sì ma cioè è un azzardo io l'avrei voluto vedere stasera ma parliamoci chiaro è un azzardo metti Hannibal in casa il Bayern Monaco non sai quel ragazzo come gestisce la partita cioè oggi in panchina 4 portieri non si era visto mai io sta roba non l'avevo vista mai 4 o 3 portieri in panchina perché non avevi giocatori cioè vi rendete conto noi siamo riusciti a fare 3 gol con una squadra che ha 7-8 giocatori infortunati a 4 portieri in panchina perché mancavi i giocatori quindi per fare la lista della partita dovevi inserire degli uomini hanno inserito dei portieri cioè vi rendete conto questa squadra ha quello che aveva l'anno scorso carattere ma poi manca 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 di intensità manca di densità Eriksen non corre più come l'anno scorso dopo quella botta che ha ricevuto non corre più come l'anno scorso Casimiro la stessa cosa Casimiro non corre più Casimiro non è che Casimiro non corre più Casimiro non corre più e ripeto è sempre quello il discorso stiamo a settembre per me arriverà il momento in cui Casimiro si riprende perché in fase di preparazione non è ancora al 100% si vede proprio lento gli è pesa corri ma non è che non corre perché non gliene va anche perché se no quei gol ragazzi non se li inventava lui non riesce proprio si stanca lo vedi proprio che è fuori fuori forma quindi io non ho nient'altro a dire sono deluso perché 4-3 c'è andata bene sapete che c'è andata bene il Galatasaray ha pareggiato col Copenhagen quindi in questo momento è 3-1-1-0 e la differenza Redi ti dice che se tu ad Old Trafford ti presenti con tutti gli effettivi e scendi in campo col carattere con cui sei sceso in campo stasera ma con i giocatori giusti con l'intensità e la densità giusta e riesci ovviamente a portarti a casa anche le altre partite prima del match col Bayern Monaco tu puoi finire testate serie perché il 4-3 con la differenza reti non è impossibile quindi guardiamo il lato positivo adesso ci appreca la Madonna che col Barney ritorna qualche giocatore io non chiedo tanto ridatemi Mount e Varane poi per Abbravat posso pure aspettare ma ridatemi questi due ridatemi questi due perché Lindelof veramente tra poco non lo posso dire perché mi blocca nel video veramente Eriksen basta Eriksen deve essere un giocatore che subentra punto punto poi vi divertirete a critica Onana voglio dire un'ultima cosa su Onana perché credo che Serba fa sto discorso io quando è successa quella cosa delle Alli ma non solo ci sono stati tanti giocatori che hanno aperto il loro cuore la loro mente e hanno raccontato ai media ai giornalisti quello che hanno passato a livello psicologico tipo il 4 ottobre uscirà la serie su Beckham su Netflix guardatela perché lì vi spiega tanto il fattore mentale guardatela io ho sentito e visto tanti moralisti quando Dele Alli si è esposto e ha parlato dei suoi problemi quando anche altri giocatori hanno parlato della condizione psicologica dei problemi che hanno avuto tanti moralisti che poi quando Onana commette un errore un errore che ha commesso Buffon che è mille volte Onana un errore che ha commesso Neuer perché quanti errori ha commesso Neuer quanti errori ha commesso Buffon quanti errori ha commesso Alisson Ederson quanti errori hanno commesso sti portieri tanti questi moralisti poi vanno sotto i post vanno sotto le pagine sotto i video di alcune persone e non è che dicono ha commesso un errore ci vanno pesante insultando la persona insultando il giocatore esagerando andando oltre al limite superando ogni limite quindi invece fai moralisti state in silenzio io ho delle persone con cui sto mandando questo messaggio perché non farò nomi ma ci sono delle persone che hanno fatto i moralisti quando quando delle Alli o tanti altri hanno parlato dei loro problemi poi adesso prendono il telefonino fanno la storia su Instagram e ci vanno ciò pesante distruggendo un ragazzo che si ha commesso un errore è oggettivo è oggettivo se io vi dico che non l'ha commesso sono bugiardo è oggettivo ha commesso un errore allora nel secondo tempo ha fatto tre parate clamorose ci ha tenuto in partita perché allora sta cattiveria che non si dovrebbe mai utilizzare non si utilizza quando Eriksen sbaglia davanti la porta non si utilizza quando Rashford non passa la palla no perché il ruolo del portiere è facile a criticare basta un errore basta un errore l'anno scorso però a De Gea non gli si poteva di niente addirittura essendo tifosi lo United se c'era De Gea De Gea che è svincolato da più di 70 giorni 70 sono passati più di 70 giorni e De Gea ancora svincolato prima di parlare prima di parlare pensate almeno 5 secondi detto ciò io sono deluso deluso perché se poteva fa 4 a 3 se poteva se poteva fa 4 a 4 nemmo fatta nemmo fatta però adesso io rivolgo i miei giocatori rivolgo le mie pedine le pedine che mi servono per rialzarmi da questa situazione che si poteva che si poteva che si poteva